Per aiutare concretamente le popolazioni colpite dal conflitto, il Comune di Venezia ha aperto un conto corrente bancario dedicato all'emergenza derivante dalla guerra in Ucraina, in stretto contatto con la comunità che vive nel veneziano. Le somme raccolte saranno devolute e gestite completamente per la crisi in corso. Inoltre, per gestire l'accoglienza delle persone ucraine in fuga dal paese, il Comune ha già individuato 40 posti in strutture dedicate per una permanenza di medio termine, mentre per l'accoglienza in emergenza ha ampliato la rosa delle strutture usualmente impiegate, puntando alla disponibilità di 50-60 posti in attesa di indicazioni precise da parte del Ministero dell'Interno. Attraverso la comunità ucraina si è infine provveduto a fornire un servizio per le prime indicazioni operative, a cominciare dal contatto con i servizi dell'ULS per tamponi e vaccini, oltre a promuovere l'accoglienza delle persone in fuga presso le famiglie ucraine residenti nel veneziano. Il Comune ha inoltre messo a disposizione mediatori culturali di lingua ucraina per ogni necessità collegata all'emergenza.